Allora, entro subito nel merito della mia relazione, che è a proposito del danno renale da gadolinio, come studiarlo. Partirò dai meccanismi fisiopatologici che stanno alla base del danno renale da gadolinio, in modo tale da poter capire quali sono i migliori marcatori per poter valutare effettivamente il danno renale. E valuterò la creatinina come marcatore per vedere se questo può essere considerato un marcatore adeguato e passerò poi a degli alti marcatori urinari per valutare appunto il danno renale da gadolinio. E poi farò una breve valutazione di quali pazienti andrebbero monitorati secondo quelli che sono i dati disponibili al momento in letteratura. Allora, i meccanismi fisiopatologici. Sappiamo non tutto della nefrocessicità da gadolinio. Sicuramente esistono due fattori determinanti. Una è l'iperosmolarità dei mezzi di contrasto da gadolinio. Abbiamo visto oggi che l'osmolarità di questi mezzi di contrasto va da 2 a 9 volte l'osmolarità plasmatica. Questo dà sicuramente una vasocostrizione prolungata a livello renale che può portare a un danno tubulare e quindi a dei quadri di insufficienza renale acuta. Dall'altra parte ci può essere un meccanismo di tossicità diretta sul tubulo. E anche in questo caso l'epitelio che è più coinvolto è l'epitelio tubulare. Per quanto riguarda la tossicità del gadolino, sappiamo che il gadolino libero è altamente tossico in quanto entra in competizione con il calcio e quindi può dare un blocco dei canali del calcio coltaggio dipendente così come un blocco degli enzimi calcio e magnesio dipendenti. Questo può inibire la funzione mitocondriale e indurre uno stress ossidativo che porta alla necrosi, alla poptosi dei tessuti. Il gadolino per essere utilizzato viene legato ai chelanti come abbiamo visto oggi. Questo tipo di reazione non è una reazione irreversibile, è una reazione che dipende anche dalle condizioni in cui il complesso gadolino-chelante si trova. E in particolare c'è un processo che anche stamattina è stato accennato che è il processo di trasmetallazione, cioè altri metalli possono competere con i gadolino per prendere il posto del gadolino e legarsi ai chelanti. Ovviamente se molti metalli competono con il gadolino questo si ritrova libero nell'interstizio e come abbiamo visto essendo altamente tossico ci può dare dei problemi importanti. Allora dal punto di vista del nefrologo perché devo pensare a un danno renale relativo al gadolino? Le due cose che ho immaginato sono che il gadolino potesse avere una distribuzione tessutale differente nel rene rispetto agli altri organi e quindi sono andata a vedere se questa ipotesi trovava poi un supporto in letteratura. E poi anche l'eliminazione sia del complesso gadolino-chelante che del gadolino stesso è sicuramente rallentata e limitata nei pazienti con insufficienza renale. Per quanto riguarda la distribuzione tessutale ci sono in realtà qualche studio sui modelli animali che fa sostanzialmente vedere come nel rene la concentrazione di gadolino sia superiore rispetto agli altri organi e se guardiamo in particolare questo modello di ratto la concentrazione a livello urinario e quindi a livello del tubulo è ancora più elevata. In uno studio su un modello di cane si vede anche come le concentrazioni di gadolino siano più elevate a livello renale. Nell'uomo ovviamente studi di questo tipo non sono stati fatti però è stato riportato nel 2008 un case report su una donna di 46 anni che aveva una fibrosi sistemica nefrogenica che interessava acute, cuori, muscoli e rene e si è visto come a livello del rene le concentrazioni di gadolinio fossero più elevate rispetto a quelle degli altri organi. Quindi in realtà il rene viene naturalmente coinvolto in una tossicità diretta del gadolinio. Un'altra cosa importante in questo meccanismo di tossicità è la stabilità del complesso fra il chelante e il metallo e quindi il gadolinio. Questo dipende sicuramente dalle caratteristiche dei chelanti in particolare date dalla costante di stabilità e di solubilità che rappresentano l'affinità del chelante per il gadolinio e la quantità di metallo complessato in presenza di ligando. Ma poi ci sono delle caratteristiche particolari legate al mezzo dove si trovano cioè il pH e anche la cinetica del complesso chelante-gadolinio. Per quanto riguarda il pH è abbastanza interessante notare come il gadolinio a pH più bassi si trovi più facilmente libero e quindi non complessato al chelante e quindi potenzialmente più tossico per i tessuti. Ora questa cosa ha un suo senso nell'insufficienza renale. Infatti spesso nei pazienti con insufficienza renale troviamo dei pH urinari più bassi e quindi a maggior ragione espone il paziente con insufficienza renale a un maggior rischio di avere una tossicità da gadolinio stesso. Passiamo a quella che è la nefrotossicità legata alla cinetica del complesso gadolinio chelante. Allora questo è un modello sperimentale in cui si cercava di valutare il modello cinetico multicompartamentale dei mezzi di contrasto a base di gadolinio. Ho preso questa immagine perché è molto suggestiva, fa vedere come i soggetti con un filtrato glomerulare più basso abbiano in realtà delle concentrazioni di gadolinio libero più elevati rispetto ai soggetti che avevano invece un filtrato glomerulare normale. Parlo di soggetti perché questo è stato estrapolato sia dai dati sull'uomo ma soprattutto dai dati su animale. Andiamo a vedere che cosa succede da un punto di vista anatomopatologico a questo punto. Allora questo è un modello porcino che peraltro è stato già anche presentato stamattina a questo lavoro in cui si vede come le modificazioni principali sono legate a una necrosi tubulare glomerulare. Questa è verosimilmente legata all'alta smolarità dei mezzi di contrasto a base di gadolinio con la fuoriuscita dell'acqua dai globuli rossi con un'ostruzione della microcircolazione e quindi con un danno schemico. Delle altre caratteristiche istopatologiche sono allegate al fatto che i tubuli spesso appaiono ripieni di proteine e di detriti cellulari e questo è legato sia a una mentata permeabilità che a una riduzione dell'aptake delle proteine appunto avendo il tubulo prossimale diciamo dei problemi sostanziali con la somministrazione dei mezzi di contrasto e poi c'è un reperto di cui ancora non si conosce di preciso il significato clinico che è la vacuolizzazione delle cellule del tubulo prossimale. Questo era nel modello porcino. Nell'uomo in realtà non ci sono degli studi effettivi su questa cosa. È riportato un solo case report del 2006 in cui c'era una donna di 56 anni che arrivava in pronto soccorso per una crisi ipertensiva a cui veniva fatto in quarta giornata una risonanza magnetica per un mal di testa e in quinta giornata una risonanza magnetica per escludere una stenosi delle arterie renali. Dal sesto giorno si ha un aumento della creatinina che al nono giorno arriva a 3.4 milligrammi decilitro. In decima giornata decidono di fare la biopsia e il quadro predominante è quello della necrosi tubulare acuta associata anche in questo caso a depositi di calcio fosfato e di cellule necrotiche all'interno del tubulo. Quindi possiamo essere confortati sul fatto che malgrado i modelli animali possano essere diversi dall'uomo in qualche modo questo case report ci riporta a dire che non sono poi così distanti da quello che succede anche nell'uomo. Passiamo alla domanda se la creatinina è quindi un marcatore adeguato. In fatto che i mezzi di contrasto a base di gadolinio non sono per nulla nefrotossici e quindi su un'assoluta innocenza di questi mezzi di contratto rispetto a un danno drenale e altri articoli che invece si schierano in maniera decisa per una nefrotossicità. Siccome non c'è un'evidenza tale ho pensato di andare a a valutare una revisione sistematica della retteratura e quindi di fare una sorta di metanalisi mettendo o mecciando i mezzi di contrasto a base di gadolinio e le varie declinazioni dell'insufficienza renale come kidney damage, kidney failure, kidney injury. Da questo sono venuti fuori 123 articoli di cui solo 17 sono inclusi nella meta-analisi e nella revisione sistematica perché pertinenti e sull'uomo. Alcuni studi facevano vedere in realtà un confronto fra i mezzi di contrasto a base di gadolinio e mezzi di contrasto iodati. Come vedete qui c'è una tendenza a favore dei mezzi di contrasto a base di gadolinio come meno nefrotossici. Se noi poi andiamo a valutare quegli studi che invece vanno a vedere qual è la differenza di creatinina prima e dopo la somministrazione di mezzo di contrasto vedete che qui sono tutti abbastanza sulla linea di neutralità e che in realtà c'è una differenza mediana di creatinina di 0,11, ben lontana da quello 0,3 che potrebbe darci ragione dell'insufficienza renale acuta. Quindi da queste valutazioni, dagli studi presenti in letteratura, non emerge la creatinina come un esame sufficientemente sensibile per determinare un danno renale acuto da gadolinio. Quali potrebbero essere allora i marcatori? Questa è una diapositiva che abbiamo visto in tante salse oggi e che vi ripropongo anch'io, in cui si vede come il danno renale a un crescendo, c'è un iniziale danno a livello del lipitelio che perde la polarizzazione, poi un danno con la necrosi e la poptosi, con una riduzione del filtrato e quindi con un aumento della creatinina. Noi verosimilmente dovremmo indirizzarci su questi marcatori urinari e di questi marcatori urinari cosa possiamo dire? Che sicuramente si fanno vivi in maniera più precoce rispetto all'aumento della creatinina e che sono tutti marcatori di danno del tubulo prossimale, che come abbiamo visto a livello anatoma patologico è la zona più interessata dal danno da gadolinio e quindi su questi mi sono focalizzata. In realtà in letteratura ci sono solo due studi che vanno a vedere questi marcatori specificamente nel danno renale da gadolinio. Uno dei marcatori valutati è il NAG, che è un enzima prodotto dai lisosomi, delle cellule del tubulo prossimale, il suo aumento nelle urine è associato a un danno tubulare e generalmente precede la creatinina di 12-96 ore. Sul NAG gli studi ci dicono due cose differenti. Un primo studio prospettico in cui valutano 72 pazienti che sono stati esposti a una dose fissa di mezzo di contrasto con gadolinio e altri 72 pazienti mecciati per età in cui non hanno ricevuto gadolinio ma hanno fatto una risonanza magnetica e non si vedono differenze statisticamente significative nel delta del NAG. Poi c'è un altro studio su 28 volontari sani che sono stati esposti al mezzo di contrasto con gadolinio e si vede che alla terza ora c'è un aumento del NAG statisticamente significativo. Questo ci può far pensare che il NAG possa essere, se validato da altri studi, un buon marcatore per vedere se effettivamente c'è un danno o meno da gadolinio. Il Kim One è una glicoproteina di membrana che normalmente non è presente nelle urine ed è un buon marcatore di danno del tubulo prossimale. C'è un solo studio in letteratura che si occupa del Kim One nel danno renale da gadolinio e confronta 58 pazienti esposti al mezzo di contrasto iodato rispetto a 65 pazienti esposti al mezzo di contrasto con gadolinio. Normo funzione renale. Come vedete a 24 ore il gadolinio aumenta in maniera significativa non solo rispetto al valore basale ma anche rispetto alle 24 ore alle concentrazioni nei pazienti che era stato invece esposti a mezzo di contrasto iodati. Mentre a 48 ore il livello più alto di Kim One si ha per i mezzi di contrasto iodati per cui diciamo che se manterrà le promesse di questo studio iniziale anche il Kim One potrebbe essere un marcatore efficace per farci valutare il danno da gadolinio. L'interleuchina 18 che è stata accennata anche oggi fra i marcatori di danno renale ha una buona sensibilità e specificità soprattutto per l'achida danno ischemico e tossico. Esiste un solo studio che poi è quello stesso dei 28 volontari sani che ci fa vedere come a tre ore vi sia un aumento dell'interleuchina 18 statisticamente significativo. Quindi un altro possibile marcatore. E infine un paio di studi si sono occupati anche dell'engal che abbiamo visto essere ormai non più promettente ma già affermato marcatore di danno renale. Non sembra però che sia sufficientemente sensibile o che ci dia delle buone performance nel caso del danno renale da gadolinio. Però ovviamente capite bene che i numeri sono molto piccoli e che questo potrebbe essere solo frutto di un caso. Andiamo a vedere quali pazienti dovrebbero essere monitorati. C'è una review che ci dice che il rischio di nefrotossicità da gadolinio è aumentato in presenza di quadri di insufficienza renale cronica come vi ho fatto vedere anch'io peraltro parlando della fisiopatologia quando si somministrano alte dosi di mezzo di contrasto con gadolinio e quando si ha una somministrazione interarteriosa. Io ho cercato per vedere se c'erano degli studi che supportassero questa cosa specificamente nel gadolinio. Non li ho trovati però in questa revisione che parlava specificamente dei mezzi di contrasto da gadolinio riportava anche questo. E poi ovviamente anche la viscosità può essere un elemento importante nel rischio della nefrotossicità del gadolinio stesso. Inoltre c'è uno studio turco del 2006 che ci fa vedere su 91 pazienti uno studio retrospettivo che avevano uno stadio di insufficienza fra 3 e 4 e che erano stati sottoposti a risonanza magnetica con gadolinio che la nefropatia diabetica aumenta di 7 volte il rischio di nefropatia secondaria all'utilizzo di gadolinio e anche il GFR che ovviamente diventa tanto più alto il GFR minore il rischio che si abbia una nefropatia indotta da mezzo di contrasto. Anche sullo stato di idratazione è un elemento importante su cui riflettere, l'abbiamo visto nella relazione precedente. In realtà non ho trovato studi di confronto nell'uomo fra l'idratazione e la non idratazione dei pazienti. Esiste un solo studio di confronto sui ratti che ci fa vedere anche da un punto di vista anatomopatologico come i ratti che venivano idratati prima della somministrazione del gadolinio presentavano meno evacuoli citoplasmatici, una minor perdita dell'orletta spazzola e un minore appiattimento dell'epitelio tubulare. Tutto questo poi possiamo ritrovarlo nel fatto che i ratti che venivano idratati presentavano una minore variazione della clearance della creatinina. E quindi arrivo alle mie conclusioni. Il danno renale da gadolinio sembra legato all'iperosmolarità delle mezzi di contrasto a base di gadolinio e al danno diretto sul tubulo renale. L'insufficienza renale e alcune condizioni associate a questa, come la ridotta escrezione del complesso metallo legante, il piac urinario, possono aumentare il rischio di sviluppo di una nefropatia da gadolinio. Altre condizioni non legate all'esame stesso ma alle condizioni del paziente possono essere considerati dei fattori di rischio aggiuntivi. In questa categoria di paziente è ovvio che anche l'idea dell'esame va valutato all'interno di un bilancio del rischio beneficio. E che i marcatori di danno tubulare sembrano essere al momento quelli più adeguati nella valutazione del danno renale da gadolinio anche se per ora gli studi sono sperimentali. Vi lancio alcune considerazioni finali. Allora noi sappiamo che i pazienti a maggior rischio di nefropatia e di danno renale da gadolinio sono quelli a filtrato glomerulare ridotto. sotto i 30 di filtrato, anche se oggi dalla relazione della collega ho visto che le linee canadesi sono disgiunte dalle nostre, ma i nostri radiologi sotto i 30 di filtrato il gadolinio non lo fanno, è comunque una controindicazione all'utilizzo dei mezzi di contrasto con gadolinio per il rischio della fibrosi sistemica nefrogenica. E inoltre abbiamo visto come la creatinina si muove poco e quindi non abbiamo un'evidenza clinica di un danno renale vero e proprio da gadolinio. Allora perché ci dovremmo occupare del danno renale da gadolinio? Quale vantaggio clinico potrebbe averne il paziente? E per questo vi riporto questa diapositiva che è stata credo la più battuta prof di tutto il seminario in cui anche il danno che il gadolinio può provocare va visto all'interno dei diversi kidney attack che il rene può subire. Per cui anche nell'ottica della prognosi del paziente futuro e di quello che è il management più generale del paziente va comunque valutato questa problematica per ridurre quelli che sono i rischi futuri sia di insufficienza renale che come vedete è nove volte aumentata nei pazienti che hanno avuto degli episodi di Aki e di end stage reneal disease che è tre volte aumentata. Ecco queste sono le mie considerazioni finali e vi ringrazio per l'attenzione.